Un arresto, una denuncia, 4 DASP urbani e un minore rintracciato sono i risultati dei numerosi controlli effettuati dal compartimento Polfer per le Marche, Umbria e Abruzzo, denominata Operazione Stazioni Sicure. L'attività predetta nei numeri ha registrato l'identificazione di 225 persone e il controllo di circa 100 bagagli e 34 scali ferroviari. Inoltre, nel corso di un servizio di scorta a bordo del treno regionale Ancona-Piacenza, poco prima della stazione di Pesaro, operatori del posto Polfer di Falconara hanno arrestato un cittadino albanese, risultato destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia per reati commessi in materia di armi. Lo stesso, dovendo espiare sei mesi di reclusione, è stato associato presso il carcere di Pesaro. Grazie.